Cosa fai lui? Io ho fatto una tappetta. Sai Valentini Berge? Eh? No, no, no. Mai, mai. Cosa hai l'appettato? Sì, io già. Che incanto stanotte per noi. Mi sento forte, la mia forza. Mi sento, mi stringi sempre al luogo. Di più. Che bel tavolo, ragazzi. Oh, è andata la grande qua. Sara, tutti i libri, il motorino. Vai attenta, ti aspetti un bambino. Ma fe.